Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un piccolo video di aggiornamento per quanto riguarda un glitch dei soldi che ho pubblicato qualche giorno fa e oltre che essere un piccolo video di aggiornamento è anche un pochino migliorato il glitch perché si salta un passaggio, quindi fate bene attenzione allora per fare questo glitch ragazzi dovrete essere in una sessione solo amici con un vostro amico e avere una LG RH8 e una LG Retro Custom che vogliamo duplicare ragazzi quindi a questo punto quando abbiamo tutti i requisiti portiamo fuori la nostra LG RH8 come ho fatto io e la lasciamo fuori dopodiché rientriamo nella base e ci dirigiamo direttamente nella sala dove andremo a fare i colpi ragazzi una volta giunti nella sala dovremo avviare un colpo ragazzi mentre il nostro amico dovrà stare dentro una missione, un lavoro da titano e restare in quella missione noi andremo nella schermata party, andremo ad unirci a lui e arrivaremo su questa schermata nera quando saremo su questa schermata nera diremo al nostro amico di uscire dall'attività quando sarà uscito noi dovremo accettare tutti quanti i messaggi non prima ragazzi, non fatelo prima perché altrimenti il glitch non vi riesce a questo punto vi trovate in questa situazione e potete guidare liberamente in garage e qui dovete procedere come si faceva nel glitch insomma, non nel glitch precedente come nel glitch che ho portato questa mattina, quello che ho portato stanotte insomma come in tutti i glitch che ho portato finora ragazzi quindi a questo punto mettete l'auto qui e vi curate del respawn o meglio del teletrasporto ragazzi si deve teletrasportare nel veicolo, non deve assolutamente aprire lo sportello perché altrimenti non riusciremo a fare il glitch quindi quando sarete sicuri che si teletrasporta siete a posto assicuratevi che si teletrasporti anche da vicino al punto giallo con il menu di uscita aperto o meglio, quando abbiamo questa scritta bianca dobbiamo essere sicuri che si teletrasporta anche in auto a questo punto quando abbiamo tutti i requisiti e la scritta bianca appiggiamo triangolo e X contemporaneamente ragazzi avremo questo risultato, ci troveremo fuori dovremo chiamare il centro operativo mobile e diciamo avere nel centro operativo mobile una LGR H8 normale ragazzi dopodiché usciamo dal centro operativo mobile e qui saltiamo il passaggio della missione ragazzi non c'è più bisogno del passaggio della missione ma andiamo direttamente a metterla in garage l'auto o nella nostra base operativa spero che questo piccolo aggiornamento di questo glitch vi sia stato d'aiuto e questa piccola miglioria vi sia utile insomma detto questo un saluto a tutti al prossimo video